Ieri i tecnici si sono riuniti per arrivare a un documento comune che consegneremo personalmente sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Repubblica. Lo diremo poi tutti. Ovviamente non facciamo solo il lavoro dei compilatori e dei postini. Chiederemo un incontro ufficiale al Presidente del Consiglio e al Governo. Perché condivisione vuol dire lavoro di squadra e stesura insieme dei testi. Perché diciamo che condivisione per noi non è apprendere dei rinvi dei referendum da agenzia o leggere dei contenuti dei decreti da agenzia. Noi la riteniamo una strada da percorrere insieme visti i problemi che ci sono. La cifra da cui siamo partiti, però ripeto non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza, è quella condivisa anche con le associazioni dei produttori di 30 miliardi di euro che è l'esatta differenza fra quello che lo Stato ha incassato in più rispetto a quello che i cittadini hanno ottenuto come servizi l'anno scorso. Noi prendiamo i 7 miliardi proposti dal Governo come un punto di partenza lontanissimo dalle esigenze reali del Paese.